E salve a tutti e bentornati sul canale di Konagakueno, filpato e siamo qui quest'oggi per proseguire su Star Wars Knights of the Old Republic Il primo, e cominciamo da qui dove ci eravamo lasciati la scorsa volta Perché, io se non ricordo male, qui dovremmo cercare di ottenere l'accesso per i bassi fondi veri e propri In questi non sono i veri bassi fondi, c'è proprio tutta un'altra zona con le baracche Intanto ci stiamo per giocare Ok, il mio personaggio è stato per morire, guardatelo eh Ecco là Guardate come abbiamo il video con la prima morte della serie Non è successo perché il nostro Aton, sì, Aton, il nostro Kart ci ha azzeccato Vediamoci, un Medikit con... Uh, attenzione Attenzione, devo spostare un attimino il microfono e ci vediamo tra poco Ok, così è molto meglio Il mio personaggio si è bloccato lì Il mio personaggio non si muove Sì? Ok, questo è l'ingresso, è bloccato Quindi non si va di qui, almeno per il momento Come vedete abbiamo un doppio ascensore, questo da cui siamo arrivati E poi c'è questo, questo dovrebbe portarci Città superiore nord Allora noi dobbiamo andare di qua Appartamenti città basse Non sono più tanto sicuro Ah, qua c'è la cantina Ottimo Qua ci sono gli Indenbeck E i Vulcar E i Vulcar sono nostri avversari a quanto pare Mi sa che è ora di indossare l'animaturo Mamma mia, quanti Quanto stiamo Sfigando Mamma mia Ci rivediamo lì Siamo morti Siamo morti, morti male E però Ci c'è il monkey Eccala Ma che sordito Va bene Ok Perfetto Questa l'abbiamo sfangata grazie ad Aton Che ha azzeccato i tiri Noi stiamo continuando a mancare il bersaglio La cosa Non mi piace What do you think just cuz you're in some gang You don't have to give Davic his cut Kabatunpa kunpa yeyamokapapa Kachoo Yin king kunno ba muliracikun Tungna bunshanyunyang Kabavol pa mulchikamana Run da di hotonga kun hongkabi Wana kun bez ching palamule Tungking ba nunodak Tungking cha tukun Bunerabes Ah Quindi vuoi spiegare questo Il modo difficile Ok Sì, non è vero. Canderu sordo. Chi sei? Ok, là abbiamo un sit. Intanto salviamo. Ok, l'abbiamo sui. Quindi presumo che la si scenda nella città bassa. Appartamenti città bassa. Io andrei nella cantina a parlare perché se non sbaglio nella cantina c'è questo Davic. Qua si può anche giocare a Bazzac e non U. Qu'è? 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 Altra luchida. E calo Nord, se ne va. Vediamo se lascia proprio il locale o si ferma, che è possibile parlargli. Se ne va. Una granata. Ok. Qui non c'è nessuno. Oh, seriamente? Ok. 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 Oh, go! OWEN Puoi finire di cominciare l'esercizio, quindi andate qui! Hai un problema con me? E poi hai un problema con Big Z. Quindi, se vuoi prendere il mio amico furri, suggerisco che Greenies venivano qui! Andiamo a parlargli. Sì, non riconosco te e conosco praticamente tutti nella città. Devi essere nuovo qui. Penso che questo rende me e Big Z il comitato offensivo. Non è così strano. La maggiori alieni possono parlare basi, ma preferiscono usare la loro lingua. Ma ho cresciuto qui, quindi ho appena riuscito a parlare nella città nativa. Hai mostrato molti dimenticati a lavorare con questi Vulkers, figlio. Hai un nome? Il mio nome è Mission Veo. E questo grande Wookie è il mio migliore amico Zalbar. Vorrei darevi un tour, ma le strade qui non sono sicure. Ma se c'è qualcosa di più che hai bisogno... Come avete fatto a diventare amici? Come avete fatto a diventare amici? Se vuoi un'informazione sulla terrestre, io sono la persona che parlare. Davig, le gambe di città. Io ho anche scopo su quel bounty hunter Calo Nord. Beh, parliamo di Calo Nord, va? Calo Nord è uno dei più famosi bounty hunters della Galaxia. Ha matato più persone che l'Iridium. Davig... 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 Davig è parte dell'intergalactic crime syndicate. Ma io credo che tutti lo conoscono. Ma io sento che ha un nuovo船 per gli operazioni di scopo. Il Ebon Hawk. Io non so molto di spazio, ma io sento che il船 è più veloce per la blockade di Cid. Ovviamente... Questo è tutto secondo il rumore. Ma dove lo guarderà? Se Davig ha un船, lo ha messo in suo estate. Nessuno lo arriva. Excepto le persone che lavorano per Davig e l'intergalazione. Ci sono solo due gambe per rispondere a qui, in la città. I Vulkers e i Vulkers. A volte Zabar e io andiamo a base di Vulkers. I Vulkers sono guidati da Gadin Vek. È un buon ragazzo. Ha perduto la vista in un accident di scopo un po' anni fa. Ma anche blind, è un grande leader. Non come il traiter Brezhik. Prima di aver preso i Vulkers, era un Vulkers. Gadin considera questo non verificato spazio come il suo 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 suo. Ecco, perché li ha lasciati? Quando Gadin si scopo, tutti pensi che si scopo e prendere il suo 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 ok quindi con loro abbiamo parlato mi sa che era obbligatorio prima ho detto una cavolata sul fatto che me lo sono mancato adesso parlandoci riascoltando i dialoghi ma salve abbiamo un hat e il gioco è crashato di conseguenza ed eccoci qui pronti a parlare con l'hat ah è quello dell'ufficio l'italia è il gioco è il gioco Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Vediamo eh Sì Grande Siamo stati più furbi Allora Questo volevo sapere Ecco i vulcan neri Devo penetrare nella base Sì Va bene 50 crediti ben spesi Tenendo conto che Molte cose Comunque Le otterremo dai loot Quindi non conviene Anche star lì a comprare Però 50 crediti Li abbiamo presi Salviamo E ora Eccola qua La base degli in them back È proprio Qui Ho bisogno dell'aiuto di Gadon Mi hanno detto di parlare con lui Questa qua Allora mi fa Allora mi fa entrare Forse Forse Dico forse Perché è passato un pochino di tempo Da quando ho Parlato con l'Hatt Dal primo crash di questo video Forse ho risolto quel crash Ho smanettato un po' Non mi farò mai Non mi farò Non mi farò Non mi farò E lasciar Come ti farò Tu puoi parlare con Gadon Se vuoi Ma ho l'aiuto Con te Tu provi Qualcione E tu sarai Vaporizzato Prima di Valkar Spi Allora Zerdra Tu hai bisogno di perdere Zerdra Ever since Bredic And the Valkars Cominciarono questa guerra She's been a little Overzealous And the problems With the Sip Haven't helped Ho bisogno di informazioni su quei guci di salvataggio che si sono schiantati nei bassi fondi. Non ti preoccupare, non lavoro per i Sith. Questo è vero. Eccola qua. C'è vero che i Vulkers prendono una scuola scuola e vendono per un buon profitto a Davic o una scuola scuola per il mondo, ma un servizio repubblico non è una scuola normale. Ma ancora pensano che Bastilla è solo un servizio repubblico, questo potrebbe funzionare a nostra avventura. Potrebbe poter capire una scuola per la base di Vulkers. E' troppo valutata per lasciare la scuola di Vulkers a base. Brezhik probabilmente ha avuto il tuo amico repubblico a scuola in un'altra scuola sicura fino alla grande scuola di Swoop. E' un'altra scuola di Vulkers. E' un'altra scuola di Vulkers. Ci deve essere un modo per aiutarla, io lo so già. E' un'altra scuola di Vulkers. L'unica speranza che hai di riscaldare Bastilla è di vincere la grande scuola di Vulkers. Potrei essere potuto aiutarti con questo. Se volessi aiutarti con noi. Abbiamo anche qualcosa da ottenere qui. E molto da perdere. Qual è la tua proposta? La scuola di Swoop è solo per le gambe le basi di città. Potrei sponsorarti come un rider per i Hiddenvex quest'anno. Se vieni la scuola, vieni la libertà di voi. Ma prima devi fare qualcosa per me. Le mie meccaniche hanno sviluppato un acceleratore per una scuola di Swoop. Una bicicletta con l'acceleratore installata può battere nessun altro scuola di Vulkers. Ma i Vulkers scuolano il prototipo da noi. Prendono di usare la scuola per garantire una vittoria in questa scuola di Swoop. Ho bisogno di partire nella loro base e lo prenderlo. Come posso entrare nella base? La scuola di Vulkers non sarà facile. Le fronte sono fermate. Ma conosco qualcuno che potrebbe essere potuto trovare la scuola di Vulkers. Mission Vale. Mission? Gaddon, non puoi essere vero. È solo un bambino. Come si potrebbe aiutarti con questo? Mission ha esplorato tutti i passi di tutta la scuola di Vulkers. Inoltre, la scuola di Under City è meglio di nessuno. Se nessuno può entrare nella base di Vulkers, è lei. Dove la posso trovare? Missione? Ho delle uniformi Sitte. Questo è vero. Ho delle uniformi Sitte. Questo è vero. Ho delle uniformi Sitte. Questo è vero. Sì. 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 Ok. Buona scuola. Grazie per le uniformi. Non lo necessitare con questi papi di sicurezza. Ora, c'è qualcosa di più che posso fare per te? Suggesto di che si fugga. La scuola di Sitte è arrivata e vogliamo che hai tempo per praticare prima della scuola. Ok, quindi abbiamo rinunciato. Questo è tutto bloccato, ovviamente. Cilindro? Qualche Medipack? Sì. Io continuo a salvare per sicurezza, così. Ora dobbiamo trovare, appunto, i bassi fondi veri e propri. Che è la zona che... Io ricordo, tra l'altro. Ci sono cose interessanti nei bassi fondi, però almeno recluteremo un po' di gente. La c'è la guardia Sitte. Lei dovrebbe farci passare. Però c'è anche un vulcar. Tre vulcar. Il mio personaggio è praticamente morto. Oh, kart, bravissimo. Kit di riparazione. Che per ora... non ci serve. Prossimo livello, 405. Quindi... quattro nemici e ogni combattimento questo si... si pianta. Che abbiamo poca vita. Io faccio un salvataggino. Ho i documenti con me. Ho i documenti con me. Sì. Uh... Questi sembra di essere in ordine. Ok, puoi andare su se vuoi. Non posso dire che io ti invito, però. L'Undercity sta scavando con mutanti. Rackgulli, come si chiamano. Se vuoi vedere qualcosa che muove sull'interno, chiamate prima e chiamate le domande. Sì. Si è piantata. Va bene. Prima fargli fare un caricamento. Probabilmente adesso... tornerà... a camminare. Tu tu! Upworlder! Qualcuno che usa questo elevatore ha bisogno di pagare il risultato. Sì, questo è il nostro elevatore. Se tu lo usi, devi dare noi qualcosa. Non credo questo planeto. Anche i peccatori stanno cercando di uscire. 5 crediti! E' quello che costa usare il nostro elevatore. 5 crediti! Non crediti. Noi non creditori. Siamo tutti che arrivano dal mondo, sono ricchi. Por favor, 5 crediti è troppo da chiedere? Por favor, fateci a noi. Non c'è nulla. E' tutto ciò che chiediamo è un po' crediti per rendere la nostra vita più facile. It's just too bad your little welcoming committee Il mio nome è Van Redaart. Tu chi sei? Nulla di speciale, dai. Ma a volte penso che lo vedo nei miei sogni. Il sole, il cielo, le sole, tutto sembra così, così, così meraviglioso. Gendar, il leader della nostra città, mi dice che mi dovrei spendere più tempo per cercare di migliorare le cose qui e meno tempo a pensare di qualcosa che non posso mai avere. Talvez lui è vero. Tu probabilmente pensi che sei un uomo, a pensare di un posto che non ho mai mai visto. Ma quando ero piccola, Rukil mi ha raccontato storie di quello che era lì. E chi è Rukil? Rukil. Cosa sarebbe questa terra promessa? Va bene. Oh, ok. Well, if you ever need anything, or if you just feel like talking, come back and see me. Hardly ever get a chance to speak to someone from the Upworld. Sure. Esatto, dopo un caricamento... Lui si è... ...aggiustato. Ehi, tu non sei da la città, tu sei da la città, tu sei da la città, tu hai credito, credo. Si, guardatevi, c'è qualcosa di dolore sull'altro. Non credo a lui, come potrei farlo. Fammi vedere cosa vendi. Non compro niente. Eeeh, questa è bella. Questa è bella. Costa un sacco di soldi. Te la puoi prendere se... ...facevi le taglie. Cosa che con questo personaggio non... ...non c'entra nulla. Quindi... Vediamo se questi posso interagire. No. Di cosa stai parlando? Deve esserci una soluzione. Non c'è nulla che può essere fatto per i ragazzi infeggiati. Anche il serone per counterattere la malattia di ratgaule non sarebbe un'utilizzo ora. Nessuno sarebbe abbastanza abbastanza di rispondere a le peni per dare loro la cura. I ragazzi infeggiati potrebbero trasformare in ragazzi infeggiati e attaccare loro a ogni momento. Non posso aiutare i ragazzi infeggiati. Ci devono morire così che il resto della città può vivere. Io accetto questo. Se tu pensi che mi è una città, è così. Io non posso aiutarti di andare sui ragazzi infeggiati ma se i ragazzi infeggiati sono già trasformati in ragazzi infeggiati in ragazzi infeggiati, saranno passando nella tua grava. Per favore, aiutami. Siamo infeggiati con la malattia di ratgaule. Giustamente. Erano così? Non me li ricordavo minimamente. Questi avvelenano eh. Vedete a non ascoltare gli NPC. Vedete? Sì. Sì. Vedete! 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 Vedete al gli coinieri la! Vedete. Vedete! Vedete, Adar, vedete! open the gate quickly, there isn't much time I, I can't the Rack Ghouls are too close the mutants will kill him if you don't open the gate and if I open the gate, they'll kill us all no, you can't do this it isn't fair please, make him open the gate Hindor will die if he doesn't I can't open the gate, not while the Rack Ghouls are so near dai, facciamo gli eroi you'd risk your life for a stranger? you're brave, Upworlder I'll open the gate for you, but you've got to be quick in a few seconds I must close and lock it again se noi potevamo uscire, lui poteva benissimo entrare quanti gli altri gol sono? uno il bello è che io non ho HP il problema è quello fondamentalmente ok facciamo sto level up attributi ho un punto ok Ok, perché manchiamo troppo spesso Abbiamo poca vita ma quello si può rimediare Persosione cappata Oh, schivata prodigiosa Attenzione Sì, va bene Oh, schivata prodigiosa Oh, schivata prodigiosa Dai, ma non ti puoi bloccare ogni volta Dai Ah, là ci sono anche dei sit E si gira Dai, cosa è successo? Mi, mi e Zalbar Siamo chiamati Siamo chiamati Siamo cercando di trovare cose che possiamo trovare Solo un po' di sviluppo Siamo facciamo tutto il tempo Credo che con il Wookiee Tu hai bisogno di capire che puoi affrontare la attacca di Drak Ma questa volta stavano per noi Gomorriano Non avevamo la possibilità Non avevamo la possibilità Sai dove l'hanno portato? Non ho sicuro Ma questi Gomorriano like to hang out in the sewers La staccia ricorda di loro di casa I credo That's probabilmente where they took Big Z It's a deal As soon as we get Big Z back I'll show you a way into that Volker base Now, come on We have to find Zalbar before they sell him to slavers or worse Do you know where he's being kept? The Gomorrians make their camps in the sewers I bet that's where we'll find Zalbar And that's where I'll show you the secret entrance into the Volker compound Ok Abbiamo un terzo membro del party Tra l'altro Con l'atto chiaro maxato Dobbiamo salvare E caricare La partita Un secondino Devo provare a vedere se trovo un fix anche a sta cosa perché Qua ci sono le fogne tra l'altro E quello è Kanderus Questo non me la ricordavo Don't Facciatevi un favore e andate da qui venivano. Mandalorians non rendono rispondenti. Facciamo promessi. Ma sto cercando di dare un'attività ammiglia. Questo non è un buon lugar per stare a chiedere. La città è scappata con raggulli. Ho già perduto un pozzo di persone a quelli di questi monstri. Due, tre Uh, non ho armato missione Ok C'è la fibro lama missione Fammi vedere Uno dieci Però non so che mosse c'ha Ok È equilibrata ancora Quindi può usare Distintamente entrambe Quindi questa gli darei Io aspetterei un attimo A combattere Perfetto A combattere Mi ha detto Davic che questa missione di salvaggio era una buona idea. Sui ragazzi non sono stati per questo tipo di cose, e non riesco a loro tutti. Ok, ragazzi, stiamo fuori da qui prima di perdere a qualcuno di più. Non posso portare tutto questo salvaggio da me stesso. Tu sia anche un'escritto di fuori da qui, anche se non puoi capire i raggulli, non riesco a che non c'è qualcosa di più di trovare. Davic mi sentì qui con questa squadra modale per scavenire qualcosa che possiamo e gli lo dico, poi mi ammazza. E' rimasto in vita uno. Il gruppo ucciso, no? Allora, missione. Eh, però, andiamo a consumare un sacco di medikit. Allora. Io salvo un attimo e noi ci salutiamo qui. Adesso probabilmente mi farò un giro di questa zona off camera e poi nel prossimo entriamo già nelle forne per portarci avanti, perché comunque tutti quelli non li batto adesso. Non sono fattibili. Però volevo comunque fare un giro. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio, va bene? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.